Eccellenza, abbiamo concluso la settantesima settimana liturgica nazionale che, con grande gioia, senso di ospitalità e gratitudine anche la nostra diocesi ha ospitato. È ancora forse troppo presto per tracciare dei bilanci, ma sicuramente un messaggio conclusivo che un po' racchiude tutto quello che in questa settimana abbiamo vissuto, sicuramente lo abbiamo captato ed è quello appunto del binomio necessario tra liturgia e vita. Credo che sia quello che abbia fatto da comune e denominatore un po' a tutto il progresso dei lavori di questa settimana. Sì, io intendo innanzitutto confermare quello che già è stato detto, questo binomio tra liturgia e vita, perché se l'esperienza della grazia diventa storia di salvezza si incarna nel tempo e nei luoghi e nello spazio, altrimenti non è neanche storia. La storia per essere tale tiene conto di queste due categorie. E nostro Signore è venuto, si è fatto presente nella storia, si è fatto presente in un tempo, si è fatto presente nella nostra vita e ancora oggi attraverso la nostra vita e la chiamata che quotidianamente ci rivolge si fa presente nella storia del mondo. La vita santa è vita che ridà libertà all'uomo. L'azione liturgica, luogo e opportunità dell'incontro con Dio diventa la fonte per l'incontro con tutti i fratelli. Quindi questo binomio tra azione liturgica e vita si concretizza nella buona testimonianza e nella fedeltà all'amore di Dio. Sento il bisogno di ringraziare sia il centro di azione liturgica, ma tutti gli operatori, da quelli più umili e più nascosti a quelli che più si sono prodigati in attività concrete di logistica, di servizio, sull'aspetto culturale, perché non è un convegno, né è stato un convegno che si può caratterizzare per l'aspetto prettamente speculativo delle varie relazioni. Ma io dico che è stato un momento di grazia grande, momento di grazia perché è stato tempo di preghiera e di riflessione, di consapevolezza, di comunione ecclesiale. E io spero che oggi non si stia concludendo, ma oggi tutti quanti in mano abbiamo potuto prendere un testimone da portare nelle varie realtà ecclesiali dove viviamo la quotidianità e la testimonianza della fede che professiamo. E l'augurio più bello perché da qui sta nascendo un convegno vero e proprio, quello che nella quotidianità della vita può essere celebrato. Grazie a tutti. Grazie.